In tante puntate, in tante trasmissioni televisive, sul web, abbiamo avuto modo di conoscere e scoprire Giovanni Matera, non solo come imprenditore, ma soprattutto come esperto di marketing, esperto di comunicazione, esperto di formazione, tanti corsi ha creato e grazie al suo apporto abbiamo avuto modo di arricchirci, di arricchire il nostro modo di pensare, il nostro bagaglio culturale, ma soprattutto abbiamo scoperto, almeno parlo della mia esperienza, la necessità di non sentirsi mai arrivati, ma di migliorarsi sempre più. La vita è fatta di traguardi che sono in rapida successione e che vanno inseguiti. E abbiamo analizzato questo patrimonio che ci ha donato Giovanni Matera attraverso i vari capitoli della cassetta degli attrezzi, ce l'abbiamo qui, strumenti per il marketing e per l'imprenditoria. Allora vogliamo chiedere a Giovanni Matera se una nuova pubblicazione è in itinere, è in gestazione. Sì, la Cassetta dell'attrezza sta andando ancora a Gonvievele, vedo che nell'ambito scolastico... Questa infatti è una... noi abbiamo dato vita ad un secondo blocco di puntate, proprio perché abbiamo analizzato alcuni capitoli ma ce n'erano tantissimi interessanti che andavano analizzati. Ma c'è prossimamente una nuova pubblicazione, non voglio svelare il titolo, ma vi dico che qualche accenno abbiamo dato in queste puntate, qualcosina... Degli antipasti. Degli antipastini, diciamo così. Quali saranno gli spunti? Sì, ma affronteremo più di petto anche e soprattutto il mondo della scuola pure, dando dei suggerimenti soprattutto, ma anche altri aspetti che riguardano anche la PNL, programmazione neurolinguista significa, degli aspetti più che appartengono alla sfera più personale, ancora di più degli approfondimenti sulla persona, prima ancora che l'imprenditore, perché tutti i corsi formativi che sto portando avanti, tutta la formazione, il libro, ma anche il secondo libro, si basano quasi tutto sulla persona, noi abbiamo fatto un corso vendita e un corso marketing parlando solo della persona, di come il venditore deve comportarsi come persona davanti al cliente, di come il marketing viene fatto mettendo la passione, mettendo tutte quelle stratagemme, ma sempre come persona. Non sono andato a parlare di Fanel o di nuove strumentazioni, perché quello lo devono fare magari, faremo intervenire anche degli esperti nei prossimi corsi dove andranno a parlare più tecnicamente di queste cose qua. Io vi ringrazio di questo, vi posso dare solo un suggerimento, veramente ci devo dire. Noi ringraziamo lei perché ci ha aperto, perché poi vedete oggi con la tv, ma soprattutto con il social, basta un click e una pillola di tre minuti. Matera, sa quanti giovani magari abbandonati a se stessi che perdono la fiducia, sentendo anche le sue parole, i suoi stimoli, si accende la scintilla della vita, si accende la lampadina. È il motivo per cui stiamo facendo queste cose oggi e abbiamo fatto negli altri giorni. Vi do un consiglio, se potete andare, oltre a vedere questi video, ma anche tutti gli altri contenuti, ho rinnovato da poco il blog Giovanni Matera, dove troverete tutti i miei articoli, troverete i video, sulla pagina di ricerca e formazione di Facebook, su LinkedIn, c'è molta roba, veramente andate, potete seguirmi sia sulla pagina di ricerca e formazione di Facebook, su LinkedIn e abbiamo detto sul blog Giovanni Matera.it e naturalmente anche su YouTube. Quindi continuate a seguirci e io sarò lieto se avrò sollevato qualche dubbio, fatto venire la voglia a qualche nuovo imprenditore attraverso questi video. Ci congediamo Giovanni Matera quando più o meno ci presenteremo in libreria. La primavera, sì.